Ecco qua un altro avvioggetto che passa e come ho appena detto poc'anzi è continuo il passaggio di questi come li definisco io pseudo aerei perché di sicuro non sono aerei in quanto non ne passerebbero così tanti come ho appena dimostrato ma non posso nemmeno affermare che siano altro perché non ho certezza e non ho la possibilità di provarlo direttamente per cui dico pseudo aerei e così è continuo il passaggio e mi sono dovuto spostare da dove ero prima appunto per la solita storia dell'abbaglio per riprendere anche quest'altro insieme ad altri che sono passati ma proprio sotto il sole e per cui impossibilitato per me di poterli riprendere e questo è un altro o uno degli ultimi forse che riuscirò a riprendere Dopodiché là in fondo c'è un accumulo di scie bianche rilasciati da quei pseudo aerei di cui ho appena fatto vedere ho appena detto Sì così come questi guarda l'altra parte dell'albero visto che sono coperto dietro il tronco di un albero per riuscire a non essere abbagliato dalla luce del sole che è fortissima Ecco questo è qualcosa come dico io fuori dal normale Come tante altre cose che ho vissuto in questi ultimi anni dopo essere bruciato vivo nel 2011 Sì c'è una realtà superiore è lì che è un prato che esiste una realtà superiore a prescindere da come non la vogliamo chiamare perché nessuno la conosce realmente E si esprime in tanti modi attraverso la natura e attraverso soprattutto Soprattutto su ciò che sta accadendo negli ultimi anni che come ho definito in vari post Evidenza l'oscuramento della vita che sta travolgendo tutto E ciò che era ieri non sarà più domani Come sempre Il tempo sembra arrivato indicato dalle profezie dagli scienziati negli ultimi due anni Ma soprattutto dai segni premonitori di cui ho parlato su decine e centinaia di video Che evidenziano che qualcosa di terribile o di bello sta per succedere Di terribile per coloro che hanno la coscienza sporca Che hanno sempre mentito Di bello per coloro che non hanno nulla da temere Dalla realtà superiore E per loro sarà veramente un sorriso Ciò che arriverà a prescindere da come si presenterà la realtà superiore Bisogna aspettare per vedere E poi Nulla sarà più come prima Qua giù sulla Terra D'altronde non bisogna mai dimenticare Noi siamo delle piccole formichine Su un pianeta sperduto ai confini della Terra Basta vedere ciò che hanno scoperto Gli scienziati ultimamente Che hanno detto così Che metà del nostro corpo non è umano È formato da microbi E simili Per cui La semplicità dovrebbe essere Ciò che ci permette di vedere oltre questa realtà E capire Che se noi ci siamo e non ci siamo Non cambia niente nell'universo Ecco perché È meglio guardare e capire Per essere sempre pronti Come disse Gesù Perché in ogni momento La realtà superiore può esprimersi Davanti ai nostri occhi E allora dopo Sarà inutile o difficile pentirsi Di ciò che abbiamo fatto stupidamente Sì Stupidamente Soprattutto il male Che avremmo fatto Ci ritornerà indietro Basta vedere quello che sta sciudendo la Chiesa Che ha nascosto per decine di anni Le migliaia di vittime Violentate e abusate Dei suoi sacerdoti E come ha detto Qualcuno è in cima Tutto il male che si fa Poi lo si paga E così Papa Bergoglio ieri ha detto Il 2018 è l'anno più difficile Sì sommerso di tanti scandali Dei suoi amici preti Cardinali e vescoli Che hanno abusato anche Del ragazzo e dei bambini Nei confezionali Ecco Allora guardando queste scie in cielo Che formano le grandi iscome Continuano adesso in questa parte Qua nella mia sinistra Bisognerebbe pensare a questo Forse è arrivato il tempo In cui il male che è stato fatto Ritorna a chi l'ha fatto Già La giustizia universale È paziente Non buona E sembra che il tempo sia arrivato Ecco là si contano altre scie Che aumentano più di quelle che erano prima E là ancora dall'altra parte Un altro avviogetto Un altro aereo Ho chiamato come ho detto Non ha importanza Ma qua non è passaggio di via aerea Qua è sempre stato sereno e limpido Tranne i momenti in particolare Come evidenziato in vari video Appena detto nel video precedente Cosa vuol dire Già L'arrivo Sì L'arrivo di qualcuno Che cambierà questo mondo Esseri Superiori Che potrebbero decidere Come hanno detto già molti scienziati Che l'esperimento fatto con gli uomini È pressoché fallito E per cui Alla fine dei tempi Sarebbero ritornati Per ripulire il mondo Da ciò che non serve più Sì Soprattutto da tutti coloro Che credevano Che facendo il male Avrebbero avuto Un grande successo Una bella vita Dimenticando Che avrebbero avuto Anche una brutta fine Ora sembra che il tempo In questo giorno Del 31 dicembre Poco prima di mezzogiorno Si è arrivato Aspettiamo È solo colui Che la coscienza pulita Aspetta con un sorriso E sulle labbra Ciò che sta per arrivare E spera Con tutto se stesso Che sia arrivato un momento Che la parte positiva Buona Si salvia O sia salvata Su questo pianeta Spesso indegno Di vivere Di vivere E con un altro Qua sopra di me Alla fine di questo video Che segue così Molti altri Che sono appena passati Io le definisco La speranza Sì La speranza Che finalmente Qualcosa di bello Arrivi su questo pianeta Per ripulirlo Sì Da tanto letame Che c'è Sì Letame È ciò che definisco La cattiveria Eccola in fondo La mia destra Un altro E un altro ancora Ovviamente Cercando di ingrandire Si sfoca l'immagine Soprattutto Sono sempre in controluce Come ho detto inizialmente Comunque Si possono osservare Anche in questo modo Là in fondo Alla mia sinistra Ancora invece Altri Che ne stanno arrivando Per cui è facile Capire Non erano quelli di prima Perché stanno arrivando Adesso Sono là Visibili Come dico sempre Ho imparato a credere Nei fatti E questi sono fatti Sì Perché le parole Sono ingannevoli Soprattutto usate Da molte persone Che ti illudono Per fregarti Ecco In questo momento Sono salito un po' Sulla montagnetta Qua Per vedere Per vedere oltre Meglio Come là in alto Ancora Perché chiunque Come dico sempre Crede ai fatti Non alle parole E ognuno E ognuno E ognuno Usi la propria testa Per capire Perché il creatore O comunque L'essere supremo È un'immaginato Immaginare E pensare Che oltre questa vita Ci sia qualcosa Di bello Meraviglioso Una realtà Una realtà superiore Che ci aspetta Sì Perché forse Questa vita Che noi viviamo È solo un esame O almeno Una scuola E alla fine Dopo questa Nostra breve Temporalità terrestre Andremo là Oltre Là Dove viene indicato Tutte queste scie Di pseudo oggetti O pseudo Avio oggetti Che ci danno la conferma Che esiste Un'alità superiore Ecco Non servono Tante parole Per dirlo Basta vedere i fatti Usare la testa Ed essere Corretti Nella vita Cercare sempre La verità E soprattutto Non fare mai Del male A chi non ce ne ha mai fatto Sono in mezzo Almeno coperto Dal tronco di un albero E questa Sono le scie Che appaiono Alla mia sinistra Nel cielo azzurro Limpido di stamattina 31 dicembre 2018 Poco prima Delle 11 Sono arrivato qua E adesso Sono più o meno Mezzogiorno Dovrebbe Più o meno Essere mezzogiorno E qua invece Quelle Alla mia destra Che ovviamente Là in fondo Sono visibili A occhio nudo Ma soprattutto Essendo contro luce Sono molto sbiadite O risulterebbero Molte sbiadite Nella registrazione E comunque sia Stanno arrivando Come faccio vedere Evidenzola in alto Altri Abbioggetti Ovviamente Sì Che non deriva dagli uomini Ma deriva Da una realtà superiore Come ho detto Prima A prescindere a prescindere Come faccio Come faccio Non lo pubblico Anche se spesso Volentieri Lascio I difetti Nei vari video Proprio per evidenziare L'autenticità La semplicità La spontaneità Sì perché è lì Che si nasconde Il vero significato Di ciò che noi Trasmettiamo La spontaneità Del nostro vivere Verso i nostri simili Ci rende grandi E soprattutto Ci rende felici Di essere ciò che siamo Ecco questo Vuole essere L'ultima panoramica Della ripresa Di un cielo azzurro Colmo di scie Lasciate da Decine e decine Di avbioggetti In quest'ultima ora Della mattina Del 31 Dicembre 2018 Ecco mi sono Mi sono spostato Fin in un po' Dalla lontananza Dell'albero Del quale ero coperto Del sole Proprio per prendere Una panoramica Completa Del cielo Solcato Da decine e decine Di scie Nell'ultima Mezz'ora O 35 minuti E qua concludo Questo video Che prova Ciò che ho sempre detto Dell'esistenza Di un'altà superiore A prescindere Da come noi La vogliamo chiamare Questa è una esperienza La foglie Questa è una esperienza Questa è una esperienza